Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma è stata risolta la situazione tra Aglio e Calenzano, dove per incidente restano ancora cote attratti. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. A Prato, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del ponte Lama, ci sono cote in entrambe le direzioni sul viale Leonardo da Vinci. La viabilità cittadina a Firenze, in via Cimabue, sono in corso lavori per un'isola ecologica, chiuso il tratto da via Gioberti a via Giotto. Poversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!